Fabio Messina e Michela Nusenzo ciao Fabio per Fabio II stagione di gare se non vado errato ha inaugurato le scarpe le scarpe da pilota lo scorso anno al rally storico dell'Elba e adesso approdi invece al moderno vediamo come va quest'altra esperienza sei fiducioso spero sempre però mai dire mai forza vediamo come va pochi secondi e poi siete in gara anche voi credo che possiate andare ok? bene? 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 Grazie a tutti. 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 Contente? Allora, che è? Non ci metto gli occhiali, non riesco a leggere niente. Non è vero, è vero. Ah, ok, bene, grazie. Allora, Fabio, complimenti. Complimenti, dico. Che è quel pupazzo? È la mascotte. Come si chiama? Alberto. Alberto è la mascotte. È il suo figliolo. E va bene, 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 bene. Ciao ragazzi. Guarda come se la ride là dietro. Ciao Pessina.